Vediamo se mi riesce di farvi vedere il gioco dello stecco. Ora dovrebbero venire subito sullo stecco perché gli piace molto. Eccone uno, ecco quell'altro e si comincia l'altalena, la giostra. Si sono scatenati perché anche gli altri vorrebbero partecipare, ma non c'è molto gusto. Su, 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 attaccatevi bene, bene. Ora vediamo se vi riesce di farvi vedere quando viene a mangiare da solo. Aspetta, facciamo meglio l'inquadratura prima, eh. Ecco, vediamo. Non è questo, è quello sull'altalena che dovrebbe venire in teoria. Dai, non fai più fare brutte figure. Su, vieni a mangiare, vieni. Vieni, vieni, dai, su, vieni giù. Si prepara, eccolo, eccolo, arriva, arriva. Eccolo, bravo, bravo. Poi un giorno voglio provare se me lo prende direttamente dalla buca. Come con panastico prende l'ossino di seppia, che è quasi alla fine. Guarda, ce n'è un altro, su. Eh, c'è da finire da mangiare il primo, ha ragione. Dai, su, mangia. Mangia. Eccolo, bravo. Bravo. Ora, vediamo dalla bocca. Adesso è la prima volta che provo, ma sarà difficile. Comunque, vediamo, eh. Spostiamo questo, è la noia. E' caduto, mannaggia, ce l'ho riuscito. Vieni, su. Vieni. E' perplesso, ma siamo, siamo sulla buona strada, eh. Io insisto. Ah, mannaggia, mi è caduto. Dove è andato? Non lo mettiamo in un altro, eh. Proviamo con il semi di girasole. Magari gli piace di più. Peccato, questo non mi riesce a farvela vedere. Ci vuole molta pazienza. Per me e per lui. Dai, seguitiamo con la mano. Vieni, su. Vieni. Comunque, la prossima volta ci riesco, eh. Bisogna dare di tempo per prendere fiducia. Non è facile. Noi, quelli bianchi li ho finissimi. Sono quelli più grandi, quelli che ci piacciono di più. Ora, vieni su. Vieni su. Su. Giù. Accusi. Non ti avvicinare, se no, si spiega. Vediamo se lo prendo direttamente dalla mano. Non attraverso le sbarbe. Vediamo se con la mano dentro. L'altra volta lo presse. Vieni, su. Vieni. Ti ha paura. Gli altri tre stanno appollaiati lì. Non so se li vedete, eh. No, non li vedete. Perché tre stanno lì a guardare, eh. Cosa succede. Proviamo a rifrare l'inquadratura. Ora l'ho persa, è un casino. Eccola. Eccola. Pippo. Eri qua. Su. Mi sa che per oggi l'avventura finisce qui. Non ha più voglia. Anche perché sono sazi. Questo lavoro lo devo fare alla mattina presto, quando sono affamati. Vabbè, chiudiamola qui per ore.